Notizia di poche ore fa, la Knoll ed Hermann Miller si fondono insieme. Per chi non lo sa, Hermann Miller e le Knoll sono due tra le più importanti aziende del settore design in America. Entrambe hanno dei pezzi incredibili, tipo la Hermann Miller ha tutto il lavoro fatto da Charles Reims, Knoll ha pezzi incredibili come la Vassili di Marcel Breuer, oppure la Barcelona di Mies van der Rohe. Quindi ne vedremo delle belle. Ciao!